Con questo ultimo tutorial sulla domanda di partecipazione al concorso ordinario dai decreti ministeriali 205 e 206 del 2023, vediamo come completare la compilazione della domanda per la scuola dell'infanzia e primaria. Dunque andando sulla domanda che era già stata messa in bozza, una volta che ci si è logati con lo speed, entriamo nella domanda e facendo avanti andiamo sulla pagina riferita ai propri dati personali e facendo ancora avanti entriamo nel compila sezioni. Come vedete avevamo già compilato le parti obbligatorie, la prima e la seconda parte obbligatoria. Se noi volessimo variare una di queste parti obbligatorie già compilate andando sulla matita si può modificare o anche aggiungere una classe di concorso mancante. Per esempio noi avevamo inserito la scuola primaria, se volessimo inserire la scuola dell'infanzia basta cliccare su scuola dell'infanzia, fare aggiungi e verrà aperta questo nuovo modulo per inserire la scuola dell'infanzia. Dove si può chiaramente selezionare la tipologia con abilitazione, indicare perché sapete che per l'infanzia e la primaria l'unico titolo di accesso è l'abilitazione. E poi dire che tipo di abilitazione, come è stata conseguita l'abilitazione, che può essere stata conseguita anche con un accorso di laurea di scienza della formazione primaria quinquennale ex DM249 del 2010. Con votazione, come si mette qui la votazione avuta, che viene subito commutata in centesimi qualora non lo fosse, si inserisce la data del conseguimento, questo si slascia solo nel caso in cui la laurea non avesse un voto finale, ma avendolo dunque lo si può togliere. Ripetiamo dunque la votazione, se c'è meglio inserirla in modo tale da poter così indicare la votazione in centesimi. La data del conseguimento, una volta inserita la data del conseguimento, il luogo del conseguimento è Università Terranea Reggio Calabria. Facendo poi così salva abbiamo inserito anche il titolo per l'infanzia e la stessa cosa lo si può fare se si vuole i posti di sostegno per l'infanzia, qualora si abbia il titolo di specializzazione del sostegno per l'infanzia. Poi ci sono queste aree che vanno indicate, di cui una obbligatoria che andiamo a compilare subito, cioè l'indichiarazione di diritto, la cittadinanza di essere cittadino italiano, i diritti civili dunque di godere dei diritti civili e politici, l'obbligo di leva che non è obbligatorio per le donne, le donne possono non compilarlo e anche i maschi possono non compilarlo qualora sono fuori dall'obbligo di leva, lo compileranno solo coloro che sono in obbligo di leva. Le liste elettorali riferite al comune di, si indica il comune in cui si è registrati, nel mio caso Reggio Calabria, e proseguendo bisogna indicare di essere idoni fisicamente a svolgere la funzione docente, di non avere riportato condanne penali possibilmente o di avere le seguenti condanne penali e si deve indicare quali. se ci sono condanne il candidato deve obbligatoriamente indicare le condanne come vedete qui scritto, procedimenti penali in atto, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato destituito, che condizione, sine qua nonno, non si può fare il concorso, nel caso il candidato debba avere una certificazione per avere ausili e tempi aggiuntivi deve compilare pure questa area, altrimenti no. qui il versamento è la privacy, il versamento che va obbligatoriamente indicato e caricato tramite la scelta del file. Poi facendo salva, per esempio si può caricare un file qualunque, in questo caso scelgo un file qualunque, lo inserisco, era un file di portata superiore che non viene, inseriamo questo che si inserisce, ecco qui, faccio salva e il sistema mi dice che è un campo solo obbligatorio, la nazione, ah, non si era inserita la nazione. Adesso mi dice che la sezione non ha evidentemente preso, ecco il file precedente, va inserito nuovamente, fare salva, ecco, adesso è assolutamente inserito. Poi ci sono gli altri titoli, i titoli di servizio, chi ha titoli di riserva, i titoli di preferenza, normalmente il titolo di preferenza, il più, quello che va per la maggiore, è quello di avere figli a carico, che sarebbe il carico E, si inserisce il numero di figli a carico, si fa salva e anche questo campo, ma potrebbero esserci anche altri titoli di preferenza, oltre quello dei figli a carico, dovete leggerli tutti e vedere quale titolo di preferenza voi ritenete di possedere. Poi, i altri titoli valutabili, qui potete scorrere tutti i titoli, per esempio il possedere una laurea specialistica, se oltre la laurea di accesso avete un'ulteriore laurea allora potete inserire, aggiungere la laurea in questo riguardo, tipo laurea vecchio ordinamento avere una laurea laurea in matematica conseguita nel 92 93 con la data di conseguimento non è importante il voto non è importante il voto perché è un titolo aggiuntivo basta fare salva e si ha pure questo titolo si torna alla lista principale e poi si possono, per esempio, inserire titoli di servizio titoli di servizio facciamo l'esempio perché i titoli di servizio, per esempio 2019 2020 abbiamo in scuola statale abbiamo un titolo di servizio che potrebbe essere anche specifico oltre che a specifico dunque in una qualsiasi classe di concorso qui ci sono tutte le classi di concorso che si possono avere compresa quella, per esempio, della scuola primaria si inserisce e si dà servizio di ruolo si iscrive no all'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo chiaramente ecco come si carica un anno di servizio si deve dire dove è stato prestato l'anno di servizio si indica la provincia Reggio Calabria e il comune in cui è stato svolto il servizio si fa salva e anche questo servizio viene caricato così come tutti i servizi possibili possono essere caricati dunque in quest'area qui tutti i servizi possono diciamo essere caricati per indicare il titolo di servizio aggiuntivo speriamo che questa ultima quest'ultimo video tutorial sulla presentazione delle domande per il concorso ordinario sia utile a tutti i nostri telespettatori tenete conto che ci sono mille variabili per cui se ci sono complicanze potete scrivere in redazione vi sarà data la risposta ad hoc per il vostro quesito personale arrivederci a tutti di Grazie a tutti